E siamo ancora una volta insieme, ben ritrovati amici carissimi, siamo ospiti di Punto Car Automobili a Frossasco in via Pinerolo c'è Andrea Tarantino qui con me, ciao Andrea Ciao Stefania, un benvenuto a tutti Bene, come sapete questo è un autosalone multimarca specializzato nel vendervi vetture nuove da immatricolare, chilometri zero, proposte d'occasione e anche le vetture introvabili, ad esempio vuoi aprire la grande oggi Andrea? Sì, oggi apriamo con il top di casa Alfa Romeo e vi presento una Alfa Romeo Stelvio, ne abbiamo tante in pronta consegna nuove chilometri zero, possibilità sia per i privati che per le aziende di leasing o noleggio lungo termine Introvabile, vettura assolutamente richiestissima, finanziamenti, agevolazioni, tutto in sede e andiamo a scoprire cosa c'è in vetrina da Punto Car Automobili Qui partiamo in casa dello Scorpione, in Abarth, abbiamo una 595 competizione, 180 cavalli, ancora da immatricolare a chilometro zero, 24.900 euro E accanto abbiamo una Abarth 595, 135 cavalli, anno 2014, pari al nuovo, con soli 33.000 chilometri, molti optional a 13.900 euro Passiamo adesso in casa Mercedes, con una bellissima classe A, 180, 110 cavalli, allestimento Sport, a 15.900 euro Qui passiamo in casa Lancia, con una bellissima Lancia Ypsilon, allestimento Gold, 1.269 cavalli, pari al nuovo, con soli 7.000 chilometri, a 10.900 euro E qui invece passiamo in casa Jeep, con un particolarissimo Jeep Renegade Trailhawk, full optional, fortissimo risparmio da listino Partiamo da 29.900 euro Qui passiamo nel nostro parco esterno, abbiamo una bellissima C1, 69 cavalli, 1.000 di cilindrata, col cambio automatico, introvabile sul mercato dell'usato Pari al nuovo, 20.000 chilometri, a 8.900 euro Passiamo a una Fiat Panda, a chilometro zero, a 10.500 euro, poi ne abbiamo diverse unità E qui per finire abbiamo un Fiat Cubo usato, trekking, del 2011, 95 cavalli Venite a scoprire il prezzo in sede Ok, allora prosegue la nostra passeggiata in esterna, grazie Andrea Ci mostri la grande scelta di vetture del gruppo FCA Tutte le vetture ai prezzi più interessanti, ad esempio questa è una Fiat Panda aziendale, ci ricordi qualche dettaglio? Sì, questa è una Fiat Panda aziendale, modello full optional, lounge, con soli 13.000 chilometri, anno fine 2017, a un prezzo di 8.900 euro Non mancano anche i veicoli commerciali, i piccoli, i agili, i maneggevoli per la vostra attività, sia del gruppo FCA che PSA Ovviamente c'è un po' di tutto, a voi la scelta, le migliori soluzioni d'acquisto da Punto Car? Qui passiamo a un altro veicolo commerciale, un Fiat Scudo Maxi, 2.000 multijet, 130 cavalli, anno 2013, a soli 9.500 euro più IVA Prima di salutare vi presentiamo questo Jeep Renegade particolare Qui abbiamo un Jeep Renegade Limited, Black Edition, particolarissimo sul mercato dell'usato, a soli 18.900 euro per voi Bene, tutto questo qui a Frossasco, in via Pinerolo 26 e poi diamo l'appuntamento in fiera? Sì, vi ricordiamo che saremo presenti alla fiera di Pinerolo, vi aspettiamo numerosi per le nostre offerte Grazie ad Andrea Tarantino, alla prossima Ciao Stefania e ciao a tutti E non mancate, a tutti voi, alla prossima volta